E' vero che siamo in tempo di carnevale, quindi ogni battutaccia non fa ridere. Berlusconi si è permesso di dire come è possibile che Berzani, il Partito Democratico, possa gestire le sorti di una nazione se non è riuscito a gestire neppure una banca. Una banca in Montepaschisi è la terza banca italiana. A questo rispondo, ma Berlusconi, se non sei riuscito a gestire un casino, quelle che erano le case chiuse di una banca, di una volta, ti è scoppiato il mano, il bunga bunga, c'è i processi, eccetera, come puoi pensare di riuscire a gestire una nazione? E all'amici della Lega Maroni in primis vorrei ricordare che quella banca che avete creato è durata allo spazio di un mattino come le rose, è scoppiata, credo si chiamasse Lega Credit Nord, dove c'eravate tutti dentro. E come può un elemento come Maroni, che non è riuscito a gestire un banco dell'otto, perché quella è una banchina, è come potrà mai pensare di gestire lo Stato italiano, addirittura in combutta con un altro che non è riuscito a gestire nemmeno un casino. cosa vorrete fare insieme? Arrivederci amici!